Ciao a tutti e tutte, ho raccolto una piccola parte di camomilla spontanea che nasce nel mio giardino. Ne ho prelevato una parte da mettere nell'acqua che bolle. La lascerò in infusione per qualche secondo. Dopodiché una parte la utilizzerò come tisana da bere e l'altra parte che mi avanza dell'acqua, chiaramente per non mutarla via, la farò raffreddare, la metterò dentro una botticina di vetro e la riporrò nel frigo. Perché? Perché questa parte di contenuto liquido la utilizzerò come tonico naturale per il viso. Fa molto bene le occhiaie, dà un aspetto molto più rilassante ed è veramente un tocca sana. Per cui se non avete il tonico da viso che è un classico che potete acquistare in commercio, vi consiglio di farvene uno voi in modo naturale e che fa molto bene. Per ora vi saluto, è un video molto corto, vi auguro una buona giornata. Ciao da Simona!